Salve ragazzi, sono Shura e benvenuti all'estrazione del vincitore, della vincitrice, del giveaway! Qui volevo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, se li avete stati davvero in tantissimi, mi avete intasato la mia e-mail, questa è stata una cosa stupenda, ho ricevuto tanti commenti troppo carini, persone che non avevo, non avevo, non... Mi sono inceppato sul verbo, vabbè, persone fantastiche che mi hanno commentato, non sapevo nemmeno che magari mi potessero cagare, è stato troppo carino, vi ringrazio tutti, vi invito sempre a seguire il canale, magari di aiutarmi a portare avanti questa cosa, perché è una cosa a cui tengo realmente, portare avanti una passione è sempre comunque una cosa stupenda, quindi aiutate Shura e speriamo bene. Quindi però, vando alle cianci a prima mattina, altrimenti piango, vi faccio vedere immediatamente chi cavolo ha vinto il giveaway, quindi... Per sciogliere il vincitore e la vincitrice mi sono permesso di utilizzare uno dei tanti programmi che si usano per il sorteggio random dei vari utenti all'interno del video, dei commenti del video, però non ve lo so spiegare, passiamo avanti immediatamente, sperando che realmente si riesce a vedere qualcosa. Ok, e il vincitore? Daniele? Daniele Ikikomori, un nome più semplice tu non hai? Ok, una volta che abbiamo scelto il... che è stato scelto il vincitore, ok un attimo che mi sistemo, Daniele hai vinto il giveaway, congrato alle azioni, anche per le altre non temete, anche perché ci sono sempre le out, io vi dico questo. Quindi aspettate, fate i migrations, ci sono sempre le out e pronte ad aspettarvi, se vuoi contattemi sulla pagina Facebook che trovi qui nel link, oppure tramite YouTube che mi dai i tuoi dati e a breve riceverai. Ok, hai scelto solo Jupiter, congrato alle azioni, è fighissima, e vabbè, questo, sono anche felice pure io, dopo giorni ha vinto Jupiter. Grazie per aver sopportato le mie crisi di nervi e la mia poca esperienza con i computer, vi ringrazio ancora, vi invito... vi invito quante volte mi sto invitando a seguirmi su YouTube, vabbè, sono anche abbastanza emozionato, vi ringrazio ancora e... che dirvi... ci vediamo al prossimo video di Ashura's Corner, ciao!